ciao bivis e benvenuti sul nostro canale youtube il mio nome è carmi e siamo qui riniti oggi con una nuova puntata di fondi di caffè fondi di caffè e la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù e oggi voglio raccontarvi la storia del party senza regole un party che è avvenuto nella metà degli anni 2000 un party iniziato voluto da un quattordicenne centinaia e centinaia di persone si sono presentate a casa sua persone che lui neanche conosceva e la cosa che ancora non riesco a capacitarmene è come queste persone questi altri ragazzini della sua età non fossero a conoscenza o nessuno effettivamente si fosse accorto che all'interno della casa c'erano due corpi i genitori di tyler è una storia che secondo me è assolutamente al proprio al limite tra verità e finzione perché quello che è successo è assolutamente quasi impossibile da capacitarsene io mentre cercavo questa storia vi giuro ho più e più volte dovuto cercare altri articoli per capire effettivamente se stavo leggendo esattamente le cose come erano o se c'era un pochettino di esagerazione ma credetemi questa storia è andata esattamente così quindi io direi di iniziare subitissimo perché ne abbiamo di cose da dire come sempre per togliere leggermente il grigiore da queste storie andremo a truccarci insieme e giù in description vi lascerò tutti i prodotti che andrò a utilizzare ma io direi di partire subitissimo da chi era tyler tyler hadley era un quattordicenne era un ragazzo giovanissimo frequentava le scuole superiori e abitava in florida con la sua famiglia sappiamo che a scuola ancora una volta era uno studente come tanti altri non spiccava in nessuna materia non spiccava a livello pubblico con relazioni con altri suoi coetanei infatti spesso era da solo o comunque aveva un cerchio di amicizia molto molto ristretto ed è per questo che sembra molto strano per i suoi amici quando il 16 luglio del 2011 tyler pubblica su facebook un invito un invito al suo party che si terrà la sera stessa è un invito su facebook che è pubblico e anzi è aperto a chiunque non c'è assolutamente bisogno che tu conosca tyler ma che tu abiti nelle vicinanze infatti dove loro vivono che è un porto molto molto piccolo non ci sono tantissimi party non c'è molto da fare non c'è anzi proprio una nightlife non ci sono club parti discoteche diciamo due tre pub e qualche ristorante quindi immaginatevi per tantissimi ragazzini della sua età questa è una cosa meravigliosa casa libera musica festa senza genitori perché non andare infatti come vi dicevo gli amici stretti di tyler subito chiedono come abbia questa casa libera infatti il suo amico quello proprio più stretto mike gli chiede ma come fai ad avere casa libera e senza preavviso non mi avevi detto niente li fa e guarda i miei genitori hanno deciso all'ultimo momento di partire mike chiede a appunto a tyler il ragazzo in questione se non avesse paura che all'improvviso durante appunto la festa i suoi genitori sarebbero tornati a casa ma tyler lo rassicura tyler gli dà una pacca sulla spalla e gli dice non ti preoccupare i miei genitori non torneranno mai il party iniziò intorno alle 9 di sera e come potete immaginarvi subito è pieno di ragazzini è subito pieno di minori e soprattutto una cosa che c'è in abbondanza non solo sono sostanze stupefacenti non solo è alcol ma c'è assolutamente una quantità industriale di tabacco infatti la casa si vede più e più volte in foto che era piena di luci piena di fumo una cosa che credetemi è assolutamente fuori dal comune e questo è solo dato dal fatto che ci fossero più di 100 invitati di cui è importante da sapere tyler forse ne conosceva cinque di queste persone ma una cosa che spicca più di tutto ancora una volta ai suoi amici è che non sembra essere effettivamente preoccupato si all'inizio del party aveva chiesto alle persone che entravano di non fare troppo a baldoria di non fumare in casa di stare attenti ma in pochissime ore quella casa era diventata disgustosa era un campo di battaglia c'era assolutamente sigarette spente a terra sul parquet c'erano addirittura alcol buttato a terra c'erano persone che praticamente stavano distruggendo quella casa ma tyler non aveva assolutamente nessun problema l'unica sua preoccupazione era quella di tenere le voci basse diciamo comunque di non fare troppo rumore per disturbare i vicini di casa infatti una delle cose che tyler sta molto molto attento è il volume della musica perché non vuole attirare attenzione soprattutto della polizia ma che cosa succede il party sembra andare benissimo tutti si stanno divertendo tutti stanno facendo l'inverosimile ma all'improvviso tyler decide di parlare con il suo migliore amico mike e gli dice guarda devo parlarti ho qualcosa da dirti che è dentro di me questo segreto che ho dentro di me e finché non lo dico a qualcuno non posso divertirmi al mio party mike naturalmente decide di ascoltarlo ma che dice dimmi assolutamente e tyler dice andiamo fuori non voglio che nessuno ci ascolti è solo una cosa che voglio dire a te ed è il nostro segreto ancora una volta mike è al party sono 14 anni assolutamente vanno fuori e iniziano a parlare una cosa che mike il suo amico non si aspetta per niente è che tyler gli dirà che lo stesso pomeriggio qualche ora prima del party aveva ucciso i suoi genitori come potete immaginarvi mike all'inizio non ci ha creduto e anzi pensava fosse uno scherzo di cattivo gusto infatti è importante da sapere che tyler durante la festa aveva non solo utilizzato sostanze stupefacenti ma aveva anche bevuto e questo vuol dire che secondo mike stava solo scherzando stava solo dicendo qualcosa per come si può dire per dargli paura per dargli un thrill purtroppo però una cosa che mike rivelerà poi successivamente alla polizia è che lui era conoscenza che tra tyler e la sua famiglia non c'era assolutamente un come si può dire un'ottima relazione infatti tyler dava spesso la colpa ai suoi genitori perché gli davano continuamente delle medicine e lo facevano sentire un outcast quindi una persona che era completamente fuori dalla società gli davano antidepressivi gli davano sonniferi addirittura delle medicine che lo aiutavano a per la crescita quindi a crescere in passatemi la parola in maniera normale rispetto ai suoi coetani perché una cosa che tyler era comunque affetto era da un da una nascita prematura e quindi la famiglia era completamente sempre in questa preoccupazione che il loro figlio fosse il più minuto il più piccolino e quindi quasi preso di mira una cosa che però la famiglia non sa all'inizio e sicuramente qualcosa che poi ha scoperto col tempo è che durante le scuole superiori tyler ha anche iniziato a utilizzare sostanze stupefacenti e mischiate con i medicinali che prendeva faceva sì che il ragazzo aveva crisi di inferiorità e soprattutto era estremamente depresso ma era molto nervoso era molto arrabbiato aveva appunto comportamenti che erano pericolosi sia a scuola e questo era uno dei motivi principali per la quale non aveva tanti amici ma soprattutto a casa non è riportato come un ragazzo violento ma ci sono stati casi riportati in precedenza dove c'è della violenza comunque che parte appunto da tyler ritornando alla conversazione che tyler e mike stavano avendo fuori dalla casa il ragazzo mike appunto che continuava a dire che non ci credeva di smettere di scherzare perché era uno scherzo appunto di cattivo gusto si ritrova adesso tyler che gli dice se non mi credi ti mostro tutto infatti che cosa succede i due iniziano ad andare all'interno della casa partono dal garage e lì appunto si vedono le prime tracce di sangue c'è appunto del sangue a terra e lì tyler racconta di aver preso il martello con il quale aveva poi commesso questo suo atto l'aveva successivamente portato nel piano superiore nella stanza l'unica stanza della casa che non era aperta era quella chiusa a chiave quella dove nessuno poteva entrare ed era la stanza da letto della madre e del padre all'inizio nessuno si chiedeva il perché immaginatevi c'erano tutte queste persone che non conoscevano neanche tyler il ragazzo della festa quindi immaginatevi se si facevano scrupoli con una camera chiusa ma immaginatevi se tyler vi dice no questa è casa questa è la camera dei miei genitori non entrate un po per rispetto un po perché hanno il resto della casa da distruggere nessuno c'era entrato una cosa che mike racconterà poi alla polizia è che appena entrato dentro non solo c'era un odore molto molto forte anche se erano passate solo delle ore ma proprio la camera era sotto sopra c'erano quadri a terra c'erano cassetti aperti c'erano indumenti ovunque il letto era completamente sotto sopra e al centro di questa stanza c'era un mucchio di cose una sopra un'altra mike rivelerà alla polizia che secondo lui sotto questo mucchio appunto c'erano i genitori perché aveva intravisti lui aveva intravisto il padre di tyler e quindi si è subito fermato si è subito ha chiesto a tale di andare giù ha detto senti possiamo continuare ad andare alla festa possiamo non parlarne più per favore tale naturalmente detto sì sì volevo solo dirti questo mio segreto e perché sono riuscito a fare questa festa una cosa importante è una cosa molto intelligente da parte di mike il ragazzo ha ammesso che non ha deciso di passata mia parola scappare di casa o di andare via ma ha detto che ha voluto rimanere così da tranquillizzare tyler che non sarebbe comunque andato alla polizia ma che dentro di lui sentiva proprio questa esigenza di dover andare a parlare con qualcuno infatti rimarrà alla festa per meno di un'ora e poi andrà via prima di tornare a casa fortunatamente mike andrà in centrale della polizia a denunciare l'accaduto ma quindi che cosa era successo prima del party è importante da sapere che ancora una volta tyler e i suoi genitori avevano litigato non c'è stata una spiegazione non c'è stata una ragione principale ma l'unica cosa che scopriamo è che ancora una volta c'è dell'attrito in questa famiglia tyler aveva deciso successivamente di prendere delle pillole che come potete immaginare non erano esattamente dei medicinali e da lì a poco è entrato appunto nel garage aveva afferrato questo martello ed era ritornato dentro in casa la madre che in quel momento stava davanti al computer che stava lavorando si ritrova il figlio dietro le spalle andrà a testimoniare successivamente in corte appunto tyler e dirà appunto al giudice che lui era rimasto dietro sua madre per dei minuti perché voleva vedere se la donna se ne sarebbe accorta di lui perché il suo desiderio più grande era quello di sentirla urlare dalla paura dopo che la donna non se ne accorse appunto di tyler dietro e vi giuro questa scena mi mette i brividi aveva iniziato a colpirla gli aveva completamente fracassato la testa e sangue era ovunque sulla tassiera del computer che successivamente tyler deciderà di pulire infatti lui non decide di disfarsi delle prove lui le ripulisce ma le lascia anche lì in bella vista quando c'era questo party questa tastiera ancora sporca era lì e in cento persone più o meno che c'erano questo party nessuno se ne era accorto è importante da sapere che naturalmente quella povera donna a quello che gli era successo aveva iniziato ad urlare gli aveva naturalmente attirato l'attenzione del marito che era sceso giù dalle scale e aveva assistito alla scena mentre tyler era sopra la madre il padre iniziò ad urlare a chiedere il perché perché di quest'atto e tyler gli rispose perché no perché perché voglio farlo e da lì iniziò a rincorrere il padre fino alla camera da letto dove lo colpì fino a fargli perdere la sua vita e fu infatti dopo aver commesso ancora questo atto impuro contro suo padre che tyler decise di spostare ambedue i corpi e metterli nella loro camera da letto coprirli con indumenti coprirli con oggetti e chiudere la porta a chiave lui voleva dimenticarsi della sua famiglia dietro di sé c'era assolutamente tutto quello che non voleva e davanti aveva una casa libera una casa pronta per una festa indimenticabile infatti decise velocissimamente e in maniera molto come si può dire senza pensarci su un po grezza di ripulire leggermente la casa non era assolutamente uno dei suoi pensieri ma di mettersi subito su facebook e pubblicare appunto questo invito che l'unica cosa che lui desiderava era avere quante più persone possibili infatti era questo invito aperto a chiunque un invito pubblico non c'era bisogno di essere suo amico e anzi se conoscevi qualcuno che era libero quella sera e voleva andare a questa festa portalo senza problemi più persone meglio è infatti Tyler aveva questo suo desiderio era il suo desiderio fare questa festa e fare questa festa indimenticabile perché nella sua testa c'era questa idea che secondo lui tutti si sarebbero ricordati di Tyler e di questo party perché dentro di sé sapeva che dopo questo party lui voleva suicidarsi lui voleva prendere delle pillole lui voleva essere talmente tanto ubriaco perché non aveva più un futuro sapeva dentro di sé che quello che aveva commesso era comunque qualcosa che sarebbe stato punibile punibile dalla legge e soprattutto qualcosa che ormai non solo aveva tolto la vita a due persone ma aveva completamente cambiato la sua per sempre che quindi l'unica sua idea era quella appunto di viversi ancora una notte in piena libertà e poi dimenticarsi di tutto dare via qualsiasi cosa lui avesse una cosa che però non aveva pensato è che naturalmente quando aveva detto al suo migliore amico mike di quello che era accaduto non si aspettava che mike sarebbe andato alla polizia ed è infatti quando la festa finisce che mike decide di finalmente andarsene va dalla polizia e dopo pochissimi minuti quando Tyler è lì in casa da solo bussano alla porta la polizia riportò che Tyler aveva la mente completamente offuscata infatti il ragazzo aveva utilizzato talmente tante sostanze stupefacenti e aveva bevuto talmente così tanto che trovava difficile rispondere anche a delle domande più banali come per esempio il giorno il suo nome dove effettivamente si trovasse era intrappolato in questa nebbia di pensieri ed era completamente in uno stato quasi di shock infatti la polizia decise subito di intervenire e di andare adesso a cercare nella casa questo questo punto luogo del delitto grazie al fatto che mike aveva già detto loro dove cercare riuscirono subito a trovare i corpi dei genitori di Tyler ed è infatti da lì a poco che il ragazzo venne arrestato con l'accusa di omicidio di secondo grado è importante da sapere che però durante la sua permanenza in carcere mentre stava appunto aspettando di sapere quale fosse il suo verdetto Tyler decise di scrivere una lettera al suo amico mike togliendogli completamente la colpa infatti lui disse non sono arrabbiato con te per quello che hai fatto non sono arrabbiato perché hai chiamato la polizia ma voglio che tu sappia che io sono un ragazzo buono io sono un ragazzo buono io sono un ragazzo con dei sentimenti e soprattutto quello che ho fatto l'ho fatto contro la mia volontà ebbene sì lui aveva dato la colpa al diavolo aveva detto che il diavolo lo aveva completamente offuscato che il diavolo aveva obbligato e che quello che aveva fatto quel giorno quelle poche ore prima del party lui non era neanche sicuro di come perché effettivamente lui era un bravo ragazzo quindi ancora una volta lui stava cercando di portare con i suoi avvocati della difesa questa idea di appunto quasi insenità mentale però è importante anche da sapere che anche quando è davanti al giudice davanti appunto alla corte lui continua a dire che queste azioni non sono azioni conosciute da lui che lui non è sicuro di quello che è successo soprattutto che lui è un ragazzo buono ma nello stesso momento viene anche riportato da altre persone che sono in carcere con lui quindi altri carcerati che lui si vanta di queste situazioni ebbene sì lui continua a dire di come ha fracassato la testa alla madre e di come ha fatto paura al padre e soprattutto di come li avesse completamente come si può dire in inglese si dice crashare quindi proprio andargli sopra quasi schiacciarli con il suo martello infatti lui voleva essere ricordato e chiamato in prigione come hammer boy che hammer tradotto appunto martello il ragazzo martello in corte tyler e i suoi avvocati provarono assolutamente di tutto infatti secondo loro non solo c'erano ottime possibilità per un'eventuale riduzione di una pena che ancora una volta non sapevano quale fosse ma per loro potevano già farla ridurre in partenza ma addirittura lo scagionamento secondo loro tyler era non solo vittima di questo diavolo quindi insenità mentale ma addirittura era vittima dei suoi genitori e questo suo atto era un atto di difesa personale vi voglio ricordare velocissimamente cosa ha fatto alla madre e cosa ha fatto il padre non so dove sta la difesa personale ma per gli avvocati difensori quella era difesa è importante però da sapere che nel 2014 quando tyler aveva 17 anni quindi erano già passati tre anni dopo quello che era successo la giuria e il giudice in unanimità decisero di dargli il suo verdetto infatti secondo loro non solo il ragazzo era colpevole ma gli avevano dato sia l'ergassolo e sia le avevano tolto la possibilità di libertà vigilata quindi praticamente quasi la pena maggiore se vogliamo togliere che in florida è possibile dare la pena capitale è anche da sapere che successivamente tyler e i suoi avvocati decisero di riaprire il caso di farlo riaprire perché secondo loro erano stati troppo cattivi avevano valutato questo ragazzo di 14 anni in maniera troppo pesante e con un nuovo giudice riuscirono addirittura a togliere l'ergassolo e quindi c'era una possibilità per tyler di uscire di prigione ma ancora una volta si ritorna in tribunale perché il fratello del padre e in generale proprio la famiglia che aveva subito questa perdita sia della madre sia del padre decisero di riportare il ragazzo nuovamente appunto in tribunale e vinsero e infatti ancora una volta a tyler gli fu dato l'ergassolo gli diedero però la possibilità di libertà condizionale ma quanti anni non lo sappiamo perché non è qualcosa che è stata data al pubblico però proprio per farvi capire come questo ragazzo sia passato da ergassolo senza condizionale ha tolto l'ergassolo e solo qualche anno in prigione a ritornare ancora una volta a un ergassolo con possibilità di libertà condizionale lo so forse è stata un pochettino una confusione ma credetemi tra il 2014 e il 2018 c'è stato un continuo entrare e uscire in corte per riuscire a capire esattamente quale fosse la vera giustizia ed è importante dare giustizia a queste due persone che non ci sono più ed eccoci qua bibis siamo arrivati anche oggi al termine di fondi di caffè e come vi dicevo all'inizio di questo video ho trovato questa storia davvero tanto difficile da comprendere e ancora adesso dopo che ve l'ho spiegato dopo che l'ho rivista rivisitata completamente mi sto ponendo esattamente le stesse domande come un ragazzino di 14 anni sia capace di commettere un'azione del genere e come lo stesso ragazzino anni successivi non abbia un minimo cenno di rimorso ma anzi provi il priacere nel farsi ricordare e conoscere come hammer boy e ragazzo martello è qualcosa che io non mi so spiegare è qualcosa che ancora una volta mi rabbrividisce perché mi fa pensare a come la cattiveria di certe persone sia qualcosa che non abbia limite non c'è fine e credetemi non vedo l'ora di scoprire qual è il vostro punto di vista quindi vi aspetto giù nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di questa storia e soprattutto se vi è piaciuto questo video lasciatemi una bella thumbs up iscrivetevi al canale così non perdete il prossimo appuntamento vi ricordo che come sempre fondi di caffè torna ogni martedì alle 4 del pomeriggio e giù in description trovate anche il resto della rubrica se vi va di continuare con altre tematiche ma io come sempre vi ringrazio e come dico sempre always remember like if you like hate if you hate and until next time you're welcome e grazie per avermi ascoltato ciao ciao ciao